Silvia Agostino, non potevamo non cominciare con il capitano, alla vigilia dell'inizio della pool promozione, si torna a San Giovanni Marignano con quale spirito? Sicuramente con uno spirito battagliero, è stata una buonissima gara quella in Coppa Italia e quindi abbiamo tutti i mezzi per far bene, ci è mancata un po' di lucidità nella partita scorsa quindi speriamo di imporre sempre il nostro gioco Adesso inizia la seconda fase, una fase importantissima, che l'EPM vedremo in questa seconda fase? Io vorrei vedere un LEPM sempre molto convinto nei propri mezzi, ripeto noi stiamo lavorando ogni giorno per migliorarci e quindi spero che questo si possa vedere ogni domenica Avete avuto una settimana in più di preparazione, qual è l'obiettivo di questa pool promozione? L'obiettivo è fare più punti possibili, sicuramente sarà un altro girone molto tosto perché comunque le squadre che ci sono sono tutte squadre di ottimo livello Quindi l'importante è scendere in campo e pensare sempre alla partita e portare a casa più punti possibili Silvia per stemperare un attimo l'attenzione, visto che hai terminato da poco l'allenamento, una domanda nazional-popolare Ma l'EPM e Silvia Agostino in particolare, Sanremo lo stanno vedendo? Allora io personalmente ieri no, però le mie compagnie commentavano la serata di ieri sera quindi loro l'hanno guardato Io guarderò qualcosina anche se non mi fa impazzire personalmente Quindi non hai un cantante in particolare per il quale fai il tifo? Grazie Silvia Grazie